Cominciamo dalla riete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccano. Riprenderete ai pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Toro, diventate impermeabili alle critiche svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica le vostre ansie. Gemelli, le faccende pratiche sono a vostro malgrado il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare. Rassegnatevi, dovete fare gli straordinari. Cancro, oggi sì che siete in piena forma. Un martedì ricco di azione, divertimento, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore. Avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Rendimento scarso. Una buona notizia arriva dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Bilancia, nessuna nuova, buona nuova. Un martedì dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su una forza di volontà e agganci preziosi potete dare il via a un progetto importante. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere sul lavoro. Non è il massimo ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari. Capricorno, recuperato il controllo della situazione avete ottime credenziali per un martedì dinamico e costruttivo. Curate le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni. Anche l'umore segue lo stesso percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, aglietata magari da qualche piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi cari amici, da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni faranno parte di questa giornata.